Trovano conferma le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore che vorrebbero il presidente della regione molise Donato Toma in procinto di rassegnare le proprie dimissioni da commissario ad acta per la sanità. La miccia che ha dato fuoco alle polveri è rappresentata dall'ipotetico accordo tra struttura commissariale gemelli molise per sbloccare la vertenza in corso che ricordiamolo riguarda il servizio di radioterapia e le poste economiche aperte su quel versante un accordo se c'è stato al quale Toma non solo non ha partecipato e messo su un tavolo al quale ha preso parte solo il subcommissario Marco Bonamico. Questa è la punta dell'iceberg in realtà la questione più complessa e riguarda il rapporto tra il commissario e i ministeri e in definitiva lo Stato. Toma ha parlato in tal senso nel corso della trasmissione ingresso libero dicendo a chiare lettere di pensare alle dimissioni. Lo Stato dice Toma dovrebbe essere alle mie spalle ma non lo vedo. Lei ha mai valutato l'opportunità dopo questa esperienza che lei ha sollecitato e ha voluto di recarsi a Roma a dire queste sono le mie dimissioni da commissario? È una opportunità che sto valutando sì. Questa è una notizia importante allora. Una opportunità. Fare il commissario in queste condizioni significa esporsi al fuoco di tutti. Di tutti. Senza avere... Io sono commissario dello Stato quindi lo Stato dovrebbe essere con me e alle mie spalle. Non lo vedo. Sul fronte caldo dei privati Toma ha le idee chiare. Facciamo fronte comune dice principalmente a Neuromed e Gemelli e chiediamo a Roma di cambiare le regole. Altre strade non ne vedo dice Toma che ribadisce. Pronto se sarà il caso a lasciare la posizione amministrativa cioè quella di commissario. Sul budget... L'extra budget extra regionale che affligge i privati che significa? Significa che i privati vorrebbero attirare sanità da fuori regione oltre quanto è consentito dal tetto di spesa. In teoria a noi molisani, a mio presidente mi andrebbe benissimo. Non mi interessa. I privati per me possono fare quello che vogliono. Ma il tavolo tecnico mi impone di inserire nei contratti che non possono fare extra budget extra regionale. All'inizio anche io mi sono posto il progetto. Ma come mai? Perché? Poi ho capito. Perché sballa tutto il sistema sanitario nazionale in quella maniera. Allora io ho posto ai privati il problema in questa maniera. Non spingete sul commissario che non può derogare a norme che non sono nei suoi poteri. Dovete spingere insieme al commissario sul governo che può derogare o migliorare quelle norme. Se lavoriamo insieme sul governo ci riusciamo. Tutto qui. Questa è la soluzione. E le dico di più. Se non ci riusciremo nelle prossime settimane, questo presidente sarà solo presidente, non commissario. Perché io dovrò fare azione politica. E non è compatibile un'azione politica in questo momento di crisi del sistema molisano con quella di commissario. Per cui io una delle due posizioni le dovrò rinunciare. Rinuncerò alla posizione amministrativa, non a quella politica. A breve le decisioni ufficiali del commissario saranno note. È stata infatti convocata nelle prossime ore una conferenza stampa nel corso della quale Donato Toma renderà note le proprie determinazioni. Grazie.